E' morto ieri all'età di 100 anni Loris Capovilla, il più anziano vescovo e cardinale italiano. Il porporato era ricoverato presso la clinica Palazzolo di Bergamo. E' stato per un decennio il segretario particolare di Angelo Roncalli, quando questi fu nominato Patriarca di Venezia. Negli anni successivi ne ha custodito la memoria e divulgato pensiero ed opere del Pontefice. Capovilla è stato arcivescovo di Chietivasto dal giugno del 1967 al settembre del 1971. In seguito passò a Loreto. Nel 1988, dopo aver dato le dimissioni, si ritirò a Sotto il Monte Giovanni XXIII in provincia di Bergamo, paese natale di Papa Roncalli, dove peraltro due anni fa ricevette la porpora cardinalizia per decisione di Papa Francesco. Cordoglio è stato espresso dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Lo voglio ricordare, ha detto il governatore, come un uomo, un sacerdote e un vescovo cui l'Abruzzo deve essere grato e riconoscente per i segni che ci ha lasciato e che continueremo a coltivare nella memoria delle generazioni.